Uno strumento legislativo a disposizione dei cittadini, previsto dalla Costituzione, è appunto il referendum. Ci sono tre tipi di referendum. Quello abrogativo, una volta che il politico ha già fatto l'errore e il cittadino lo corregge. Quello consultivo, dove il politico chiede al cittadino e il politico lo ignora. E noi vogliamo il deliberativo, quello in cui il cittadino decide. Il Comune di Milano, per statuto, utilizza solo referendum abrogativi o consultivi. Il Movimento 5 Stelle di Milano vuole rendere effettivo anche il terzo tipo di referendum, il deliberativo. Sarebbe il primo grande Comune in Italia a dotarsi di questo strumento democratico come in Svizzera. Per ottenere questo abbiamo tempo fino al 31 maggio per ottenere 5.000 firme, autenticate dal nostro genoso consigliere Mattia Calise. Abbiamo bisogno di te, cittadino e di Milano, una piccola partecipazione per un grande progetto. Porta con te, amici e parenti, munito di documento valido e vieni a firmare a Milano. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!